Fare il punto sull'imprenditoria femminile in provincia di Nuoro, che nonostante la crisi che ha investito il comparto artigianale, continua a mostrare numeri in crescita. Il punto sulle imprese rosa del territorio e sulle prospettive future è stato fatto stamattina a Nuoro nel corso di un convegno dal titolo Le Mani delle Donne, promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Nuoro, presieduto da Antonietta Cossu. Un video realizzato dalla nostra emittente ha acceso ai riflettori su alcune eccellenze delle imprese rosa presenti nel Nuorese. L'obiettivo a livello nazionale è promuovere il fare impresa, il fare impresa femminile, incoraggiare e sostenere le donne a fare impresa in proprio. La manifestazione è al sesto anno, vengono toccate le province che maggiormente si sono impegnate sulle attività e sono realizzate in collaborazione con la Camera di Commercio e i Comitati per l'imprenditoria femminile. L'Union Camere fa un'attività di sintesi, di raccolta e di sostegno anche attraverso strumenti concreti per incoraggiare le donne a fare impresa, per trovare opportunità, finanziamenti e occasioni del fare impresa. Ricordo che il 23,6% delle imprese italiane sono oggi femminili, sono ancora tante piccole imprese, ma sempre di più le donne scelgono forme di aggregazione, crescono le società di capitale e crescono molto le cooperative, per quel carattere anche di tipicità del fare impresa femminile, che è essere forti, essere in rete, essere collaborative. E questo lo stiamo vedendo dai dati, lo stiamo vedendo e lo monitoriamo annualmente e trimestralmente con i dati del nostro osservatorio. La proposta sulla legge di stabilità, il disegno della legge di stabilità, prevede che ci siano un rifinanziamento nel triennio per il fondo di garanzia di 1,8 miliardo e quindi adesso vedremo come andrà a finire la legge stabilità. Comunque è sicuramente una misura che è al centro dell'attenzione del governo attuale, degli altri governi che ha rifinanziato il fondo di garanzia con risorse considerevoli.